Buongiorno, mi chiamo Remo Stella e sono l'amministratore della società agricola Stella. Ci troviamo a Ronciglione in provincia di Biterbo e la nostra azienda ha un'estensione all'incirca di 10 ettari e ci occupiamo di produzione di nocciole. L'azienda nasce nel secondo dopoguerra grazie al mio bisnonno che fu delle primi a piantare i noccioli a fini commerciali e in seguito è subentrato mio nonno che si è occupato della meccanizzazione della raccolta ed in seguito attualmente sono subentrato io. Gli obiettivi per il futuro dovranno rispondere alle nuove sfide che ci troviamo davanti, una nuova richiesta del mercato. Il mercato ci chiede prodotti di una migliore qualità e dobbiamo anche ottimizzare la produzione per l'estensione dell'azienda che abbiamo e in questo ci viene in aiuto T-Mac Agro Italia. Grazie alla concimazione che noi effettuiamo con i loro prodotti stiamo migliorando sia la qualità della produzione che la quantità. Il rapporto con T-Mac Agro Italia nasce perché avevamo questo appezzamento con gravi problemi. È un appezzamento molto vecchio, le piante hanno più di 70 anni, soffriva sia nella produzione che nella qualità della produzione e le piante stesse avevano problemi di vigoria. Abbiamo usato prodotti sia per la concimazione autunale e primaverile con l'F1 della gamma di Koder, con il Rizovit 26 N Process della gamma Rizovit e come concimazione fogliare anche con il record della gamma Fertiactyl e il Magnum della gamma FertiLiter. Da quando abbiamo usato la concimazione della T-Mac Agro Italia questo appezzamento è, diciamo, è rinato. Le piante hanno una nuova vigoria, un'aumentata attività fogliare e soprattutto la produzione è aumentata e anche la sua qualità. La cosa che mi appassiona più del mio lavoro è l'avere sotto controllo e l'intero ciclo produttivo e purtroppo non è così in tutti i lavori e questo mi rende molto fiero e felice di essere un agricoltore.